Sabato 16 marzo 2024. Leggete, stazione di Orta, Miasino. Qui sono due binari, ma innanzitutto apro questo canale YouTube. Questo YouTube per ringraziare i quattro ragazzi che ho conosciuto straniero dell'insegnamento che mi hanno dato. Grazie, vi saluto tutti e quattro. Ciao, sono Aldo. Sono Aldo, grazie a voi ho saputo andare al lago d'Orta, perché dalla stazione per arrivare al lago sono bensì quasi un chilometro. Vi ringrazio della cordialità, spero che scrivate un commento per poi ringraziarvi di nuovo. Sono qua, alla stazione di Orta, Miasino. Sto aspettando il treno che mi conduce alla mia destinazione. Dove vado? Dove vado. Vogonia, Ossola, al mio castello, al mio paese preferito. Oggi ho visto l'isola del silenzio, il lago d'Orta. Mi è piaciuto. Tantissima gente. Sono lieto di aver passato un bel pomeriggio. Ora sono qua, in questa stazione, ad aspettare il treno, il treno dei desideri, lo chiamo, che mi conduce in altre stazioni. Aldo, un saluto dalla stazione di Orta, Miasino. Lo ripeto ancora. Vi saluto, ascoltatori di YouTube, e spero tanto nei commenti.